Ha usato la squalifica della Wyatt Family nel match ad Handicap che vedeva il trio della palude contrapposto a CM Punk e a Daniel Bryan. Un'autentica cazzarra al centro del ring e culminata poi con il rapimento di Daniel Bryan prelevato dalla famiglia Wyatt e il contestuale mazzolamento di CM Punk.